Il consiglio più importante che mi è stato dato me l'ha dato Pippo Baudo in un ristorante di Roma dove ogni giovedì io andavo lì perché è vicino a Piazza Mazzini e lui era lì al giovedì e lui mi disse di sedermi vicino al tavolo quando ancora no vieni qua vieni qua lo devono far fare il festival ancora ma non era ancora uscita la notizia poi l'ho rincontrato dopo prima della notizia perché era prima dell'estate lui mi disse se ti chiederanno di fare il festival ricordati che devi decidere tutto tu devi essere a conoscenza di tutto tu devi sapere anche quante transenne ci sono devi scegliere la musica tu mi ricordo questa frase devi conoscere le canzoni a memoria le devi ascoltare giorno e notte e nessuno oltre a te deve decidere i bravi